Nuovi segreti in casa grande fratello, a confessarli questa volta è Daniele Bossari, dopo che Alfonso Signorini aveva anticipato che il conduttore nascondeva un segreto, durante una delle giornate in casa, Bossari si è confidato con Aida Iespica, lasciandosi andare a una lunga dichiarazione io mi guardavo allo specchio e avevo il ribrezzo di me stesso, non rispondevo più a nessuno, non volevo uscire di casa. Ho lavorato ugualmente ma non mi riguardavo mai, sono andato dallo psicologo, ma il percorso è ancora lungo. La mente ti blocca completamente, le insicurezze ti bloccano. Questo è uno dei tanti motivi per cui ho scelto di venire al grande fratello, mi dicevo accetto questa cosa per andare incontro alle mie paure, alle mie angosce, ai tormenti e alle mie fragilità. Prima ero incupito, come se avessi un velo. Ero proprio chiuso, leggevo soltanto. Il mio sogno era vivere in una torre senza nessuno perché stavo male dentro. Avevo l'inferno dopo essersi confessato, Daniele ritroverà la pace.